Casa della cultura Walter House di Bolzano, 15esima edizione della giornata dell'innovazione, un'iniziativa che porta la firma della Camera di Commercio di Bolzano. È stato il segretario generale Alfred Haberer ad introdurre la mattinata d'incontro e confronto, individuare i bisogni dei clienti e definire le esigenze che i prodotti devono soddisfare. Sono questi i temi della giornata dell'innovazione 2016 della Camera di Commercio di Bolzano. L'innovazione è un fattore competitivo strategico per lo sviluppo di un'impresa. La giornata dell'innovazione ormai è diventata un appuntamento fisso per molti imprenditori e imprenditrici dell'Alto Adice. Con questo convenio annuale la Camera di Commercio cerca di dare un contributo ad incrementare la cultura dell'innovazione nella nostra provincia e approfondire alcuni temi di innovazione importanti per le imprese. L'argomento centrale di quest'anno è lo sviluppo di nuovi prodotti. Bisogna riconoscere i bisogni dei propri clienti proprio per poter definire le funzionalità di un nuovo prodotto. Esperti di fama internazionale si sono alternati sul palco per sottolineare l'importanza dei processi innovativi all'interno delle singole realtà imprenditoriali. Non sono mancati i consigli pratici per i numerosi imprenditori e addetti ai lavori presenti in sala. Innanzitutto agli imprenditori che devono far fronte a crescente concorrenza e a pretese del cliente del mercato crescenti consiglio di velocizzare e accelerare i loro processi di innovazione. È una strategia che li può aiutare sia per sostenere il proprio sviluppo di mercato sia per mantenere diciamo così la propria immagine e posizionamento. Quattro sono i consigli di base che mi sento di dare a loro come pillole. Il primo è quello di portare i principi del pensiero snello ovvero dell'in dalla produzione e anche i processi di innovazione quindi cercando di ridurre tutte le attività non a valore e quelle che creano burocrazia e lentezza aziendali. Secondo quello di lavorare sull'organizzazione creando dei team multidisciplinari quindi rinunciando alla definizione di reparto e cercando di creare delle unità responsabili per il risultato possibilmente dedicando personale io dico quasi a tempo pieno al processo di innovazione. Terzo introducendo tecnologie che possano aiutare a rendere più rapido questo processo ma ricordandosi che automatico è diverso da auto magico e in quarto luogo ogni auto ogni veicolo anche il più rapido se incontra del traffico non si muove quindi state molto attenti alla pipeline dei progetti che avete in azienda. Troppi progetti contemporaneamente rarrenteranno i processi di innovazione quindi dedicate tempo e spazio alla pianificazione di questi progetti non solo pianificando gli investimenti ma anche pensando alle risorse umane e controllando l'impegno del personale. E se vi riesce come ultimo input cercate di inserire tutti questi obiettivi nelle vostre strategie per l'anno 2020. Grazie al contributo degli altri relatori intervenuti è stato ribadito come in tempi caratterizzati da continue pressioni di costo e concorrenza lo sviluppo efficiente di nuovi prodotti e servizi assuma un ruolo centrale nell'impresa.